Il percorso dei 5 mesi che abbiamo fatto è stato un percorso importante, dove abbiamo coinvolto tutti i nostri circoli territoriali, 70 circoli territoriali, i nostri servizi, il patronato, l'Enaip, l'IAC di casa, i CAF, le stazioni specifiche, l'USAC, la FAPAC, con l'idea di riposizionare l'IAC in questa crisi, che è una crisi profonda, una crisi per certi aspetti lacerante, che ci richiama il dopoguerra, quindi dove le ACNI devono essere significative e dare importanti risposte. Naturalmente ci hanno resi conto che le ACNI subivano dei leggeri sbandamenti, erano un po' soppite, quindi ecco la necessità di costruire un percorso per rivitalizzare i nostri circoli, le nostre associazioni, con l'idea di relazionarsi da subito dentro questa crisi e per prospettare le ACNI del futuro e pensare che le ACNI, vuol dire dei prossimi anni, siano sempre attuali e quindi sempre con l'idea dell'essere utile alla società. L'altro elemento molto importante che abbiamo eviato in questa nostra sessione è il coinvolgimento di testimoni, testimoni dentro e fuori le ACNI, ai quali abbiamo chiesto secondo loro cosa le ACNI devono essere per il futuro. Quindi anche nel momento, gli stati generali, nelle relazioni del mattino, abbiamo la presenza di Adobonomi, sociologo, di Annibale Sals, antropologo, esperto del mondo delle Alpi, poi che ci parlerà, un passaggio molto importante con Don Marcello Farina, ci parlerà della rivoluzione di Papa Francesco, che ci aiuterà sicuramente a interiorizzare maggiormente questa volontà di essere significativi oggi nel percorso, diciamo, di questa crisi e quindi chiamati a essere, come nella storia delle ACNI, sentinelle, sentinelle, diciamo, del territorio capace di escutare, anticipare e anche di dare delle risposte importanti.